Quando uno ha un minimo di capacità legata alla volontà di lavoro, si raggiungono gli obiettivi e i traguardi. E lo sport è anche educazione al lavoro per poter esprimere i propri valori. E Teresa oggi è all'attenzione italiana e rappresenta con dignità e con forza la città di Matera. E i materiali debbono essere fieri anche di lei come sono fieri di essere capitale europea della cultura. E lei forse nel tempo diventerà campionessa europea. È bello vedere che comunque ci sia tutto questo interesse nonostante sia uno sport un po' più povero rispetto agli altri. Ma è molto bello vedere che si dia importanza anche a sport minori come questo e quindi si faccia conoscere alla gente l'importanza anche di questi sport. Mi sento di ringraziare veramente il signor sindaco dei Ruggeri della città di Matera per aver voluto fortemente dare il suo augurio, il suo in bocca al lupo alla nostra Teresa che giovedì parteciperà a un torneo internazionale per la prima volta con la maglia della nazionale italiana. Insieme a lei ci sarò anche io e siamo orgogliosi di portare il nome di Matera, capitale europea della cultura, in giro per l'Italia. Speriamo di poterlo portare con successo anche in giro per l'Europa e per il mondo. Io ho giocato a tennis tavolo quando nell'era preistorica, quando le racchette erano di compensato e i tavoli di masonite. Le palline erano oggetto preziosissimo. Quando si rompeva una pallina era un lutto familiare, bisognava recuperarla e ripararla con l'acetone. Ma erano tempi lontani dove anche l'ardimento di quell'epoca ci faceva felici e sereni. Come sarà felice e serena la vita di Teresa sia nello sport, sia nel lavoro, sia nella sua umanità di donna.